Salva di Kha, Pompifan e benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. In questo video parlerò del fatto che la regione nord-est, quindi la regione dell'Isan, si sta preparando per l'impatto con la tempesta tropicale Goni. Naturalmente il link all'articolo, come sempre, lo trovi sotto in descrizione. Inoltre, come sempre, volevo invitarti, se ancora non l'avessi fatto, a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Inoltre, volevo anche invitarti a lasciare qualche like a questo video e se vuoi anche a condividerlo sui tuoi social. Detto questo, passiamo alla lettura dell'articolo. Non sono stato, io giuro, ragazzi. Non sono stato. Voi non mi avete visto, va bene? Non so se si sente la sirena. Questa è un'ambulanza che sta... Passata, passata. Allora, andiamo alla lettura dell'articolo. Scusate. Parti della regione nord-orientale al confine con Laos e Cambogia Sì, ah, ecco, nord-est, infatti, nord-orientale. Sono stato spiazzato. Ragazzi, anche qua non è che bisogna adesso cercare il capello. Al confine con Laos e la Cambogia potrebbero subire l'influenza della tempesta Goni dopo che ha prodata in Vietnam giovedì. Cioè, eh... Non sto capendo, scusate, non... Ah, ok, 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 ok. Ragazzi, il Bangkok Post non è... Quindi, diciamo che il nord-est, quindi nord-orientale, la regione nord-orientale, cioè l'Isan, si sta preparando all'impatto con questa tempesta dopo che questa tempesta sarà arrivata, quindi arriverà domani, cioè giovedì, in Vietnam. Questo è il suo... E, ragazzi, io... Vado leggendo, traducendo, man mano che leggo e poi faccio gli errori. C'ho anche una scelta, ragazzi, ma voi mi volete bene lo stesso, anche se c'ho una scelta. Il Dipartimento Meteorologico oggi è previsto per giovedì pioggia, cioè domani, pioggia moderata e raffiche di vento nella parte orientale dell'Isan. Goni era un super tifone quando si è scantato nelle Filippine domenica scorsa, uccidendo almeno 20 persone e lasciando decine di migliaia di persone senza tetto. Si è indebolito fino a diventare una depressione tropicale mentre si sposta nel sud-est asiatico continentale. Quindi sta per arrivare e man mano si affievolisce, fortunatamente, sfortunatamente per le Filippine. Il Vietnam ha chiuso tutte le spiagge pubbliche e ha evacuato le persone dalle aree che dovrebbero essere prese di mira dalla tempesta, secondo quanto riferito da VN Express, citando il Centro Nazionale per le Previsioni Idrometeorologiche. Quindi il Vietnam si sta murando. Il nord-est della Thailandia è stato martoriato da acquazzoni che hanno inondato gravemente molte aree con Nakhon-Rachiasima, una delle province più colpite. Giornalmente la mia ragazza mi condivide video di Facebook degli alludioni, delle esondazioni di case spazzate via, proprio case che camminano con la corrente del fiume che se ne porta via. Un disastro, un disastro. Le forti piogge dal mese scorso hanno causato inondazioni in 35 province, uccidendo 9 persone, secondo il Dipartimento di Prevenzione e Mitigazione dei Disastri. Speriamo che finisca tutto presto e che non ci siano altri morti o feriti o altri danni alle persone e alle cose, perché già col Covid siamo già abbastanza approvati. Tutto il mondo è abbastanza approvato, anche se ci mettono le calamità naturali. Sarebbe molto pesante. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Cocuma Cup per avermi seguito fino a questo punto. Ricordo, se ancora non l'aveste fatto, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornati sui prossimi video. Ricordo, anche se non l'avete fatto, di mettere il like sotto questo video, che cosa buona e giusta. E niente, Leo Pogamai loco punito. Leo Pogamai. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao.